Io, ragazzi, insomma, dirlo, la droga mia sono le persone. Sentimenti, quelle cose, mi spaccano il culo. Ci penso, penso sempre all'amore, penso sempre all'amicizia, penso sempre all'odio, ai sentimenti. Penso sempre a queste cose qua, mi fottono il cervello, mi hanno sempre fottuto il cervello. Stai zitto, succhiami il cazzo, stai giacassi, beccati qua sto sentimento. E' quello che mi ha sempre, sempre, sempre fottuto. Ma è anche quello che mi ha sempre fatto... Sigla a parte, perdonami un sacco, se ti ho staccato la prima volta non ti ho richiamato, ma c'è stata la discussione epocale con nonna e zia. Noi, noi. Eccomi. Chi è questo socio? JJ. Ho da farvi una confessione. Ed è una lettera aperta che voglio fare a Daniele, al mio amico Daniele. Daniele, tu sei il mio preferito. Sei un amico che mi ha sempre fatto ridere. E' uno dei grossi motivi per cui me ne andai da casa, forse quello principale, eri tu. A me fa schifo litigare con la gente, ma litigare con te mi fa vomitare. Quando è successo, quello che è successo, il ban, sappiamo tutti quello che è successo, ma nessuno sa quello che io e Daniele abbiamo vissuto fra di noi a casa. Era davvero difficile dire è colpa tua, è colpa tua, è colpa nostra, è colpa degli altri, è colpa di Mr. V. Chi lo sa, sta di fatto che è stato così difficile, soprattutto per me e soprattutto per gli ultimi momenti della casa, è stato veramente difficile fare i conti col fatto che la persona più divertente di tutta la mia vita era anche quella che era stata più inculata da se stessa, dagli eventi. Inutile parlarne adesso, è successo, è affatto male a lui, ha fatto male a me. Siamo diventati due veri ritardati da quel punto di vista, non insultando i ritardati, ma veramente. Ci ha rincoglionito come cosa, siamo diventati più scemi, ma proprio a livello medico. E le ultime cose che erano successe, il mood che si era creato fra di noi, per me era imperativo, al di là di cambiare casa e quindi avvicinarmi alla mia maturità, al mio, cercare un adulto in me che ancora non era uscito ancora, merda, era facile da dire, era anche salvaguardare quella che era l'amicizia più bella che io avessi mai trovato prima. E' terrificante, è stupido, ti giuro, Daniele, sentire e ammettere queste cose solo dopo che me ne vado, ma ahimè era anche la mia missione, cercare di ritrovare l'amore perduto, non per colpa nostra, verso veramente l'unico uomo che io abbia mai amato nella mia vita, all'infuori di mio fratello, che sei tu e lo sei stato abbastanza fin dagli inizi, ne abbiamo passate davvero tante, e anche se sei un figlio di buttana, e tutte le merdate che mi hai fatto, neanche te le ricordi e se te le dico tu ti giustifichi, perché sei un ribelle, bullo, gay, e anche se io ti ho fatto altrettante cose, quando penso a te, neanche, quando ti vedo, non riesco a pensare a tutte queste brutte cose, ma penso solo al mio amico, che tutt'oggi, dopo tanti anni di mille cose successe fra di noi, quando faccio una battuta, ride in quella maniera là, come il rapace corvo nero che sei, ti voglio bene, e ti voglio dire che l'unico motivo per cui non ho fatto abbastanza nei momenti dove invece dovevo farlo, era perché la soffrivo tanto anch'io, e lo so che è ridicolo per me dirlo, visto che tu spesso sei stato il protagonista di molti mali che ci sono capitati, ma stavo male anch'io, io come sai sono gay e mi... nel senso brutto dell'essere gay, cioè affiatarsi troppo a dei sentimenti abbastanza da renderli così importanti che ti rendono cieco, e io sento veramente di aver provato vero amore per te, ma proprio nel senso romantico del termine, e nonostante io ti abbia smerdato con tanta gente, lo sai, sono una comare, lo sai, non voglio nasconderlo, io andavo da Martina e ti smerdavo, poi ti guardavo in faccia e dicevo, oh no, è questo l'amore tossico di cui tutti parlano, assurdo, lo sto vivendo con il mio amico Daniele, perché ti amo e odio non amarti, odio non amarti, e tutte le volte in cui ti odiavo e tu mi davi giusti motivi per non farlo, e io pure a te quando lo facevi tu con me, facevano schifo, no, non me ne hai fatto un cazzo, non me ne frega niente, zero, non me ne frega niente di quello che stai per dire, zero, ma pure tipo, Marco sono vicino a tua mamma, ti è morta, sono stato io, zero, poi, questo Daniele, e questo soprattutto Daniele, ma anche ragazzi, perché quanto poco può uscire di vero delle persone anche quando si fanno tante live, una delle mie difficoltà estreme della mia vita professionale con voi è stato che di Ocane non potevo parlarne di nessuno, di questa cosa qua mia e di Daniele, perché tutti hanno sempre visto la coppia, tutti hanno sempre visto la coppia dei due amici, pazzerelli, wow, quello caga nella pizza, e quello è così sfortunato, cioè eravamo così tanto, almeno io, grazie mille Pipino, ciao Marco, 13 bacini per te, comunque intervengo sempre in momenti inopportuni, ora riattivo, ogni volta che io volevo parlare con voi di quello che eravamo io e Daniele, non potevo, eravamo in, io, io ero in trappola, non so Daniele come la viveva, ma io ero in trappola, volevo tanto dire alla gente, ragazzi non siamo la coppia dei migliori amici che avete in mente, perché a volte io voglio dargli la cola a questa persona, e l'unico motivo per cui non lo faccio è perché spesso mi sento in colpa, spesso penso sia io il problema, e quando poi mi sono aperto con Daniele, lui si è aperto con me, ho scoperto che lui era la stessa cosa, che si punisce, Daniele è un autodistruttivo, stronzo, più simili in realtà di quello che poteva sembrare, ma è stato difficile non poterne parlare con nessuno, è stato difficile non poterne parlare con la chat, ed è stato impossibile non poterne parlare con lui, perché? Perché c'era un amore tossico dietro, ma comunque amore. Io non vedevo Daniele da tanto, e io pure non lo vedevo da tanto, ma ogni singola volta che lo vedo, mi stupisce, nel vederlo sempre un po' più maturo di quello che era prima, che ho sempre pensato fosse una cosa mia della vita, e invece l'ho ritrovata in tante persone, i miei migliori amici, soprattutto, e lui non è da meno, anzi è il più. Gli voglio bene, e spero, che dopo tutto questo merdaio che è successo, e che è arrivato pure a farmi andare via, con tutti i vantaggi, cioè mi serviva proprio a farlo, al di là di me e Daniele, possiamo ritrovarci a far ridere, stavolta però meglio di qualsiasi altro momento prima, perché oltre a tutti i meme, e cose incredibili che abbiamo passato, è stata la cosa più difficile della mia vita, e non voglio neanche pensare a Daniele come l'ha vissuta, perché io ero un riflesso di male, cioè mi rifletteva a me il male, io stavo male, lui non voglio neanche pensarci, è stato terribile, terribile, brutto, la cosa peggiore della mia vita, è stata la cosa peggiore della mia vita, neanche non poter fare live con lui, perché l'hanno bannato, ma volergli male, quelle volte in cui lo volevo, mai più, mai più, si deve parlare con i propri amici, e ogni volta che io sento cose come, questi qua drogati, tipo no il mio ragazzo non, non riuscivo ad abbandonarlo, no la mia ragazza era una buttana, mi picchiava, no queste cose qua, e tutti in chat dite, no ma come si finisce in queste cose, da pazzi, io pure lo pensavo, fino a quando non ho conosciuto Daniele, e mi sono innamorato, ma vi siete allontanati, no ma mille volte durante la nostra amicizia, anche se abbiamo una terrificante calamita che ci attrae, noi possiamo allontanarci quanto cazzo vogliamo, non esiste che stiamo lontani, siamo destinati, io penso di aver trovato, la persona con cui sono destinato a ritrovarmi, in seguito, come nessun altro veramente, ed è terrificante, quando pensi al fatto che sarai anche costretto a lidicarci con questa persona, ma è un po' questo il problema dell'amore, quando lo senti tanto, che non accetti il fatto che ci possano essere problemi, e in più a noi non è che sono arrivati problemini, ma merdate che non è giusto che arrivino, in più a volte era pure colpa di altri, vabbè, questo è quello che volevo dirvi, perché non l'ho mai detto in live, la grande difficoltà che ho avuto a stare vicino a questa persona, è a non far uscire l'adulto che era in me, perché saremo anche degli autodistruttivi che ci diamo la colpa a entrambi, ma dio cane, io l'ho portato a fare questo lavoro, quindi anche se lui magari non accetta questo che sto per dire, ma io sentivo una certa responsabilità, sono sempre stato più grande di lui, e soprattutto lavoravo in queste cose qua, da molto di più di quanto faceva lui, eppure non sono stato in grado di difendere quella che era un'amicizia, che io sapevo fin dall'inizio sarebbe stata la migliore, la migliore, perciò mi dispiace, mi scuso, con tutti voi anche quando c'era della strana ambiguità, fra in live, fra di noi, che però veniva estremamente coperta dal fatto che, volento o non lente, male o bene, bastava avere noi due là e succedeva qualcosa di assurdo. Facciamo ridere, perché noi ridiamo sempre assieme, è una formula che già con mio fratello avevo scoperto funzionava già vent'anni fa, quindi, yes, free sdrumox, free poltergeist, quindi questo, ci teniamo molto a dirvelo, e spero metta anche, e spero anche che i figli di buttana sotto stuvi, possano capire questa cosa, perché anche fra quelli più distanti dai sentimenti, come fanno finta di essere i F-word che seguono Daniele, anche se alla fine sono gli stessi, si sentiva che a volte c'era qualcosa e non andava, ebbene era tutto questo. Ti voglio bene Daniele, e odio non volertene, mannaia a Dio, i veri poltergeist, sì, sì, sì. Quando sono andato da Mario e Dani, mi ha visto e mi ha dato un abbraccino, mi ha fatto strapiacere, sinceramente pensavo che non ricordasse nemmeno di me, a me ste piccolezze mi fanno davvero svoltare le giornate, ti capisco, ti capisco, ti capisco. Poi Daniele è pazzo, quindi, quando ti vuole bene, è bello non solo perché ti sta volendo bene, ma perché sai che lui sta bene, quindi sì, ti capisco. O almeno la vi voglio così. Voi giocavate solo ai videogiochi, sì, 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 sì. Viva Daniele a morte Mario, dai! Chiama Daniele dai, no, 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 lui... gli mando questo video telematico, secondo me è giusto dirle anche in live queste cose, perché voglio che lui le scopra così, lui con me non vuole parlare di sentimenti, mi dà del gay. È stupido, è gay lui, è lui il vero gay. I gay veri sono quelli che danno del gay agli altri, forse. O comunque quelli da... Vabbè. E poi anche perché lo dovevo veramente a voi. Oggi pensavo, merda, è una di quelle cose di cui ho sempre parlato a tutti non in live, però mai in live. e io, sarà che sono uno scemo, persino il mio psicologo mi dice smettila, però mi voglio davvero vendere e svendere a voi, perché al di là del mio, della mia incapacità nel dividere professione e me, non riesco a non essere me stesso in live. Se sto male lo notate, se sto bene lo notate. In più quello che faccio come carburante utilizza le mie emozioni, ma come cazzo posso nascondervi le cose? Ma non esiste. E lo so, sarà da fottuti pazzi, è da psicopatici sto discorso, lo so, lo so, ma è una di quelle piccole cose che mi fa dire, io sono nato per internet, c'è qualcosa, c'è un potere, c'è una connessione qua dentro che ricerco in maniera sempre fallimentare fuori e se qui c'è, minimo devo ricompensarla con il dare alla gente quello che diocane sono, anche nel male. Yes.